Ciao a tutti, sono Gigi Buffon e innanzitutto volevo ringraziarvi per le tantissime donazioni che stanno arrivando a favore dei nostri connazionali colpiti dal terremoto. In secondo luogo colgo l'occasione per dirvi, per dirci, che abbiamo tanta forza dentro, abbiamo tanta umanità, abbiamo tanta energia, abbiamo tante risorse che possono essere economiche o morali e sulla base di questo, a prescindere dagli aiuti che ci potranno dare o verranno dati da chi che sia, dai politici, dalle associazioni, da chiunque. Noi dobbiamo pensare che insieme come cittadinanza, come popolo potremmo veramente risolvere tanti problemi e potremmo esserci d'aiuto reciprocamente. L'importante è scrollarsi di dosso questa inerzia, questa negatività e ci credo veramente tanto. Tutti insieme ce la faremo. Un abbraccio da Gigi Buffon.